Poi certo se si vogliono fare le campagne, perché vedo ancora oggi che i giornali hanno scritto che le risorse a disposizione dei partiti sono 153 milioni. Chi ha scritto questa cosa è una capra, perché il mestiere bisogna farlo bene. Dal 2012 il Parlamento ha approvato che le risorse a disposizione dei partiti per le loro attività, secondo le norme, sono un massimo di 91 milioni. Non c'è altra cifra, un massimo di 91 milioni. Perché si deve dire e scrivere su giornali che ricevono contributi dallo Stato cose non vere? Questo non l'ho capito.